bentornati amici e amiche quest'oggi una breve panoramica con un breve videoclip a un look book proprio tipicamente del periodo a mio avviso migliore per quello che riguarda i vestiti quindi l'abbigliamento, il mood e il look ovvero i 90 style 19 styles look book vi lascio a questo breve clip fatemi sapere cosa ne pensate e voi pensate che questi anni 90 io li ho vissuti veramente per cui molte delle cose che si ripropongono oggi nella moda e nello stile io li ho portati precedentemente quindi un po' di dieci anni fa un bacione vi lascio alla visione fatemi sapere se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto questo è un po' di chi fermi e non non ci dice la canale warmvi castellare Grazie a tutti 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 Grazie a tutti